Io sono Gabri Costa, dopo avervi spiegato tutti i combattenti da personalizzare in questo Mortal Kombat 1, questa volta vi parleremo di Raiden. Vi devo spiegare come personalizzare Raiden, ma non dimenticate che Raiden ha i suoi poteri elettrici. Questo è da tanto che combatte, dal 1992. Sono anni e anni che combatte e non ha mai smesso. Ma iniziamo subito con la spiegazione per dirvi come personalizzarlo. Partiamo dall'attrezzatura. Si può fare il suo cappello che fa tempesta incombente, eleganza tonante, tuono e pioggia, il prescelto. Ed ecco a voi i suoi colori. Splendore giovanile, spirito di Feng Gijan. E queste sono le sue provocazioni. Quelle stazionarie fa scossa e terrore, e quelle in movimento dice prendi. E ora passiamo ai suoi colpi fatali. Nelle brutali ti fa il classico e nelle fatali ti tempesta in arrivo. Modalità foto e finiamo il video. Vi sto facendo vedere Raiden. Bene, ve l'ho fatto vedere. Non c'è altro da aggiungere. Direi che il video si può concludere qui. Oh, ma vi ho spiegato un sacco di combattenti. Ve li sto facendo vedere tutti. Almeno avete capito come personalizzarli. Bene, ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Condividetelo, mi raccomando. Fatelo vedere a tutti quanti.